Le blatte, o piattole come sono chiamate all'elba, sono tornate a farsi vedere nella zona di via Roma e di via del Carmine. La denuncia della presenza degli indesiderati ospiti arriva ad alcuni cittadini residenti nella zona. Il problema, oltre che di immagine, è di ordine igienico-sanitario. I rischi per la salute sono infatti di una certa entità. Le specie che rappresentano una vera e propria emergenza sarebbero meno di una decina, ma le stesse sono responsabili della trasmissione di alcune fra le più importanti malattie del mondo. Le blatte sono infatti possibili vettori di virus, batteri, protozae, nematodi e cestodi, a loro volta responsabili di affezioni più o meno gravi. Fra le possibili patologie trasmesse attraverso la contaminazione degli alimenti ci sono la dissenteria, la salmonellosi, l'epatite A e la poliomilelite. Gli scarafaggi, inoltre, trasmettono antigeni che causano l'insorgenza dell'asma. L'invasione, prevalentemente notturna, è di certo strettamente correlata alle cattive condizioni della rete fognaria della zona, che in alcuni punti risulta a cielo aperto. A questo si aggiungano i tombini intasati e il caldo in arrivo. Se non si prenderanno provvedimenti più che immediati, si rischia una vera invasione, come quella della scorsa estate, quando a causa dei tombini intasati, come sottolineano i residenti, gli insetti uscivano a frotte. Quest'anno, per tempo, abbiamo evidenziato il problema al vice sindaco Marini, che è fautore dell'iniziativa dell'Ufficio Speciale del Decoro Urbano del Centro Storico.